A Matruda, Iannone o soltanto uno dei due. Tra i nomi dei candidati a sindaco di Salerno di area centrodestra, una delle partite più importanti si gioca proprio negli equilibri tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Entrambi gli schieramenti chiedono un passo indietro al candidato dell'auto. Ma Fratelli d'Italia è categorica, il nostro candidato c'è ed ha una lista e consensi. E Antonio Iannone ha ribadito il deputato Edmondo Cirielli. Fratelli d'Italia, indipendentemente dalle candidature delle altre città campane, va dunque avanti per la sua strada. Su Iannone c'è tra l'altro l'imprimatur del leader del partito, Giorgia Meloni. E Forza Italia oggi a Napoli l'ex ministro Carfagna, che negli ultimi giorni ha dialogato molto proprio con la Meloni insieme al candidato sindaco a Matruda, incontra il senatore Volpi, dirigente della Lega Nord Noi con Salvini e segretario del Senato. In pratica Forza Italia vuole capire se la Lega, a livello locale, cioè a Salerno, così come è accaduto fin qui, appoggerà o meno il partito di Berlusconi. In tal caso, a Matruda potrà completare la lista, fin qui ancora non ufficializzata, che lo sosterrà. Diversamente, in caso di mancato appoggio della Lega, Forza Italia potrebbe rivedere i suoi piani. Non a caso il coordinatore provinciale di Forza Italia, il senatore Enzo Fasano, potrebbe dare vita ad un piano B che potrebbe prevedere anche un ritiro della candidatura di Matruda per far convergere Forza Italia su Roberto Celano, sostenuto da Attiva Salerno. Difficile per ora ipotizzare altre candidature per Forza Italia, anche se nelle ultime ore qualche sussurro aveva portato ad ipotizzare anche i nomi di Zitarosa o Ciccone.